E' bisogno che... Ah, allora, allora, ciao ragazzi, ciao, ciao, perché non cade più? E' caduto, oh, e che palle, ciao ragazzi, oh, mo' è caduto, perfetto, va... Ok, niente, scusate, allora, di cosa dobbiamo parlare oggi ragazzi? Oggi dobbiamo parlare di Lazio-Empoli, ragazzi, ha vinto la Lazio, purtroppo, perché porco due, mo' stanno a meno due, meno due, regà, noi stavamo, io mi dico, noi stavamo a più, più sette, più sette se non sbaglio, no? Comunque c'è un sacco di punti sulla quarta, adesso siamo arrivati che ce n'abbiamo solamente due, cioè la Lazio. Allora, ragazzi, partiamo dal presupposto che è difficile che l'Inter vinca a Parma, ok? Nella situazione attuale in cui hai perso in casa col Bologna, andare a vincere a Parma è veramente come scalare in All Everest di più. Intanto è finita, la Lazio ha vinto, molto bene, molto bene, molto bene. Allora, si ha vinto, ragazzi, ha vinto con un rigore di Caicedo, partita che, allora, l'Empoli non ha giocato male, bisogna dirlo, l'Empoli, tutte e due le squadre hanno giocato bene, a tratti, scusate se mi vedete così ma sto, ok, scusate, allora, hanno giocato un po' a tratti le due squadre, cioè nel senso, allora, è iniziato bene l'Empoli che ha creato qualche occasione nei primi 15 minuti di partita, poi uscita la Lazio, c'è stato il rigore che sinceramente non ho visto, regà, perché io stavo al bagno, ok? Sono andato al bagno una volta durante tutta la partita, sono andato al bagno, ritorno e ci sta già Caicedo che calcia il rigore e lo segna. E quindi io mi dico, ma è possibile che io vada al bagno e mi fiscano il rigore e io manco l'ho visto? Cioè, va bene, in tutto questo non sono ancora riuscito a rivedere il rigore, regà, va bene. A parte, comunque, Lazio, secondo me, vittoria meritata perché comunque l'Empoli è vero che ha giocato dopo il gol dell'1-0, la Lazio ha fatto qualche un po' di minuti che ha continuato a martellare, poi è andata tutta dietro cercando di mantenere l'1-0 e l'Empoli è uscito e ha cominciato a sfornare occasioni. Però è qui il punto, ha cominciato a sfornare occasioni ma senza tirare in porta, cioè sembra un paradosso effettivamente, però l'Empoli effettivamente, ho detto due volte effettivamente, conquistato tre, l'Empoli non ha mai tirato in porta, cioè le occasioni le ha avute, però non ha mai tirato in porta per dire Stracoscia ha fatto un miracolo. Cioè, l'unico tiro che mi ricordo pericoloso dell'Empoli dopo il gol dell'1-0 della Lazio è stato con Silvestre che tipo stava sul secondo palo da solo, cioè, sta distanza qua doveva solamente appoggiarla in porta e ha riuscito a buttarla fuori, però va bene. Nagia, ti pare a te che la Lazio non fa un passo falso? Solo noi riusciamo a fare passi falsi, solo noi, è una cosa impressionante. La Lazio magari fa 20-30 minuti buoni, perché non è che oggi ho giocato tutta la partita bene, ok? C'è stato qualche momento in cui la Lazio ha veramente sofferto, in cui non riusciamo anche a uscire dall'area di rigore, però, cioè, magari fa 30 minuti buoni, segna, in quei 30 minuti segna, e poi non riesci più a segnare alla Lazio, non riesci più a segnare alla Lazio. Cioè, è questo il fatto. L'Inter, invece, se prende gol, chiediamo a Baracca e Borattini è finita. Cioè, perché non rimontiamo più, veramente? Se rimontiamo è perché c'è stato il miracolo divino e Gesù ha deciso che dobbiamo pareggiarla, perché se no, niente da fare. Va bene, a parte questo, regà, a parte questo, che dire, poco da dire sulla partita, regà, io sono preoccupato veramente, non tanto per la situazione della, non tanto per la Lazio, ma io sono preoccupato per l'Inter, perché se perdiamo questa, regà, veramente, cioè, non dico che stiamo fuori dalla Champions, ma stiamo a mettere bei passi fuori, è vero che, cioè, perché è vero che siamo, andiamo quarti e comunque, in ogni caso, cioè, no, non andiamo quarti, restiamo terzi, vabbè, che cavolo sto a dire. Però, anche, è vero che andiamo, è vero che rimaniamo terzi, però in ogni caso, regà, cioè, stiamo là, stanno tutti là, cioè, là perdi, là perdi un punto e perdi la Champions, perché stiamo, stiamo tutti là, stiamo in quattro, cinque squadre, se non di più, stiamo là in tre, quattro punti, cioè, è qualcosa di impressionante, per la Champions si stanno, regà, Sampdoria, ci stanno, no, vabbè, Sampdoria, oddio, se continua così, Sampdoria, Atalanta, Milan, Roma, Lazio e Inter, siamo in sei squadre, sei squadre che si devono lottare due posti in Champions, perché sono terzo e quarto posto, perché il secondo, ormai il Napoli se n'è andato, chi lo recupera più, almeno che il Napoli non comincia a perdere da qui fino alla fine della stagione, dico, va bene, però, insomma, dubito che lo faccia, dubito che lo faccia, c'ha undici punti di differenza da noi, figuriamoci se riesce a far rimontare undici punti, il Napoli mica l'Inter, eh, mica l'Inter, noi siamo capaci di farci rimontare cinque punti di distanza in Champions League dal Tottenham e addirittura perderle, cioè, perché noi abbiamo cinque punti, alla fine del giro andato noi abbiamo cinque punti di vantaggio sul Tottenham e siamo riusciti a farci recuperare tutti e in più siamo usciti fuori, è una cosa impressionante, adesso, dalla Champions League, noi siamo, tipo, non mi ricordo adesso quanti di preciso, però tipo sette, otto punti di vantaggio sulla quarta e siamo riusciti a farci rimontare tutti, stiamo lì, lì, eh, ci mancano due punti adesso, cioè, da sette, da sette parra otto a due punti, insomma, ce ne sta bella differenza, insomma, raga, stiamo a rischiare di perdere la Champions così, e a me sinceramente mi ruoterebbe tantissimo, tantissimo, va bene, insomma, la Lazio si rifà sotto, cioè, come si è fatta sotto fin dall'inizio della stagione, però nel senso adesso è diventa ancora più pericolosa, domani gioca la Roma, l'Inter gioca dopo domani, se non sbaglio, sì, dopo domani, quindi mettiamo se, non lo so, andiamo a fare una preghiera a tutti quanti a Međugorje, all'Urd, non lo so, organizziamo, andiamo a fare tutti quanti a piedi da qui, eh, fino a, dall'Italia fino a Međugorje, sperando che, sperando di arrivare in meno di due giorni, perché se no la partita col caos, e facciamo una preghiera alla Madonna, speriamo che succeda qualcosa, perché è l'unico modo, raga, è oggi, in questo momento è l'unico modo per risollevare l'Inter, va bene, va bene ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate tanti mi piaci, attivate sta cacchio di campanellina, così arrivano tutte le notifiche e potete vedermi sclerare ancora di più, perché tanto ce ne sarà ancora da per molto, tranquilli che ce ne sarà da ancora per molto, va bene, bravo, sei caduto, così mi piace, va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, domani con Chievo Roma, spero, perché domani sto a Roma, quindi non so se riesco a ritornare in tempo per vedere la partita, vabbè, e niente ci vediamo domani o dopo domani, dopo domani sicuro, niente, ciao!